Ciao a tutti, un pensiero molto veloce oggi, ho visto un'intervista a Di Battista di Corrado Formigli mi pare, che gli chiedeva ma lei stringerebbe la mano a un dittatore o a un dittatore sanguinario e secondo me la risposta deve essere senza esitazioni un sì, un sì perché secondo me il compito del politico non è quello di giudicare le altre persone, il politico non è un attivista che deve fare manifestazioni, il politico deve parlare con tutti, deve parlare con tutti, se lo stringere la mano può aiutare a migliorare le condizioni di vita della gente che vive sotto il presunto dittatore o può salvare qualche vita se questo è un sanguinario dittatore, io ci vedo solo tutto di guadagnato a stringere la mano, conto ai mari fare il baciamano o altre manifestazioni di adorazione, questo no, però sinceramente non ci vedo nulla di male nello stringere la mano a un dittatore, a fargli visita, a mantenere buone relazioni tra i paesi, secondo me ci guadagnano tutti, questo è quanto e vi lascio così, buona giornata ciao